6.500 voci possono far tremare uno stadio. 6.500 voci possono trascinare una squadra alla vittoria. 6.500 voci sono la nostra curva Nord. È impossibile non sentirle. Immagina quindi il rumore che possono fare 16.272 voci. Nel 2021 in Italia sono arrivate 16.272 telefonate al numero antiviolenza e stalking 1522 da parte di donne vittime di violenza. Il Parma Calcio condanna la violenza in tutte le sue forme. Se sei una donna vittima di violenza o stalking telefona al numero 1522. Grazie a tutti.